Senza la grazia non possiamo far nulla e poi la misericordia ci viene donata da Dio, oggi è la domenica della Divina Misericordia carissimi amici. Non ci sono tecniche, c'è solamente la speranza di avere un cuore semplice, umile e di invocare col cuore, più che con la parola, invocare col cuore, beati i poveri in spirito, questa è la grazia più grande che possiamo chiedere, di stupirci davanti a tutto e a tutti, di avere un cuore di carne, un cuore sensibile, non esageratamente sensibile, però sensibile, che si commuove e si muove verso gli altri, come diceva Enzo Iannacci, io spero che siano come me, come mio papà, che si interessino dei poveri, i miei figli, che si interessino degli ultimi, di quelli che non hanno le possibilità di fare delle cose che facciamo noi, capite? E' questo. Gustiamoci Papa Francesco all'udienza del mercoledì. A voi vi dico, portate avanti questa certezza, il Signore è vivo e cammina a fianco di noi nella vita. Questa è la vostra missione. Portate avanti questa speranza. Siete ancorati a questa speranza, quest'ancora che è nel cielo. Tenete forte la corda, siete ancorati e portate avanti la speranza. Voi, testimone di Gesù, portate avanti il testimone che Gesù è vivo e questo ci darà speranza, darà speranza a questo mondo un po' invieccato per le guerre, per il male, per il peccato. Avanti, giovani! Il Signore è compagno di cammino e questa è la verità grande, la buona notizia, avere come amico Dio al nostro fianco. Cammina con noi questo, il Papa ha detto ai giovani, prima si era rivolto alle donne, ricordando le donne del Vangelo che vedono Gesù risorto da morte. Allora, carissimi amici, forza, forza, ma non lo diciamo così psicologicamente, forza, ma la forza che chiediamo a Dio, coraggio, il coraggio che chiediamo a Dio e il coraggio ci viene quando facciamo un'esperienza della misericordia. Allora, il Vangelo di oggi è il Vangelo famosissimo di San Tommaso. Ce lo leggiamo insieme, cercando di entrare in questa scena, San Tommaso che non era presente domenica scorsa, la domenica di Pasqua, quando Gesù entra a porte chiuso dagli apostoli, San Tommaso non c'era, gli amici che gli dicono abbiamo visto il Signore, lui che non ci crede, ecco, è il Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il giorno di Pasqua, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro, pace a voi. La stessa cosa che ci dice durante la messa, è Gesù, non è il prete che ce lo dice, perché magari il prete può avere il cuore agitato più del mio, più del tuo, ecco, è Gesù che dice vi lascio la pace, pace a voi, a voi che mi avete abbandonato, a voi che avete sconcluso durante la settimana, in famiglia, al lavoro, a scuola, con gli amici. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, perché adesso potete andare, adesso che mi vedete risorto da morte, avete qualcosa da dire agli altri, da portare la buona notizia agli altri, sino chi ce iate di cita all'altro, ci facete la solita predicuccia, non abbiamo bisogno di predicucce, carissimi amici. detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, ecco, questa anche fisicità, il soffio, che è un modo di dire, poi come sono andate veramente le cose, non è importante vedere l'effetto, questo Spirito che entra negli Apostoli e loro vanno, vengono, Pietro è venuto, Paolo è venuto qui in Italia e sono venuti, non a se fare una gita, un tour turistico, sono venuti a More, inghiuvati a una croce e tagliati a capo San Paolo, perché la fine è buona, quelli che seguono Gesù, non la facciamo. e di questo non dobbiamo avere paura. Detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, cioè l'amore, a coloro a cui perdonerete i peccati come ve li sto perdonando io, saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, a coloro che non se li faranno perdonare. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù, gli dicevano gli altri Apostoli, abbiamo visto il Signore, è impressionante questa cosa. Ma egli disse loro, no, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro. Allora, otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa. C'era con loro anche Tommaso, che ecco questa è la domenica dopo Pasqua. Venne Gesù a porte chiuse. Il mistero di Gesù è questo, entra a porte chiuse ma ha una carne. Questo è il mistero, anche il mistero della sindone, di questo lenzuolo dove c'è stato un uomo crocifisso che noi pensiamo è Gesù e che è uscito da questo lenzuolo con un'energia che noi non conosciamo, a noi sconosciuta. Ecco, Gesù entra a porte chiuse ma col corpo. Si smaterializza e si rimaterializza all'istante. A porte chiuse stette in mezzo. Allora disse la parola fondamentale. Pace a voi. Ecco. Califano sulla tomba ha lasciato detto di scrivere non escludo il ritorno, perché la vita non finisce. Lucio Dalla aveva detto la vita è il primo tempo, poi c'è il secondo tempo. Se non crediamo a questo, amici miei, se i morti non risorgono, se i annaggi, Califano, Lucio Dalla, padre, ma padre, mamma, figlio, se i morti non risorgono, vuol dire che Gesù Cristo non è risorto. E se Gesù Cristo non è risorto e non risorgiamo noi, la nostra fede è vana, ma la nostra vita è vana. Difatti quelli che si tolgono la vita per sofferenza, per delusione e perché vengono presi da questa tenebra brutta. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse pace a voi, poi disse a Tommaso metti quel tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente, gli rispose Tommaso. Mio Signore, mio Dio e Gesù gli dice perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, noi non vediamo direttamente Gesù, ma tu in questo momento non vedi direttamente Gesù, vedi Giancarlo Gatto. Ti ho fatto vedere, Jorge Mario Bergoglio, che ora si chiama Papa Francesco, Cristo Giuseppe Ratzinger, che si chiama Papa Benedetto. Vediamo delle persone, vediamo delle famiglie, vediamo delle famiglie numerose, sette, otto, nove figli che vanno in missione. Non vediamo direttamente Gesù, vediamo qualcuno che subisce un torto, subisce un danno e sta in piedi. Ecco, sono i segni della presenza di Gesù Cristo risorto. Noi di questo abbiamo bisogno, di persone che danno spazio, fanno spazio a Gesù risorto e Gesù vive nel loro cuore e opera. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù Cristo è il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Allora oggi facciamo una preghiera bellissima, particolare, perché da Roma, ma anche in tante città, anche nella nostra città di Cosenza, oggi ci saranno degli incontri particolari. Ecco, oggi a Roma saranno 20.000 i neocatecumenali che porteranno un annuncio, che faranno un annuncio, porteranno la buona notizia, ecco, proprio iniziando da oggi per le cinque domeniche di Pasqua, oggi è la domenica della misericordia, porteranno questa buona notizia che è il Signore risorto, che Cristo viene a liberarci dalla paura della morte e a darci una vita nuova. Ci saranno dei canti nelle piazze e la testimonianza di giovani, bambini, sacerdoti, persone consacrate, famiglie, ecco, insieme e poi qualcuno che darà la sua testimonianza di ciò che il Signore ha operato nella sua vita. Speriamo che da questi incontri che si svolgono in tutto il mondo, ecco, tanti nostri fratelli che ancora non hanno ricevuto un annuncio possano riceverlo e possano accoglierlo, ecco, lo affidiamo alla Madonna che è l'immagine più bella della Chiesa, che ci porta Gesù, ci mostra Gesù, pregando così la Madonna. Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo figlio, figlio di Dio, ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui, mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Buona domenica carissimi amici, domenica della misericordia e a Dio piacendo, arrivederci alla prossima. Nel mondo più di cento milioni di bambini non vanno a scuola, con il sostegno a distanza Avsi vuole costruire un futuro migliore, aiutaci. Nel mondo più di cento milioni di bambini non vanno a scuola, con il sostegno a distanza